braun è vera braun è vera che sta succedendo ragazzi la mia spalla l'alto quello mi ha inculato la spalla e streppato do you wanna team up attenzione qua e questo luogo pure e foriero di sventure zombo parte all'attacco vieni zombo vieni zombo ancora zombo ok siamo a prendere indizio braun stanno i corvi la non ci viene qua il mulatore mi piazzo qua va su campo scendi in acqua esatto a mano che cazzo vuoi fare povero immolatore in acqua non scoppia attenzione di quervos non ci viene qua consumabile vabbè questa è la vita un po' te la scegli un po' te la ritrovi ci stanno i corvi oddio si era buggato entra un cestello vabbè andiamo a 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 un po' visto ok c'è gente c'è gente non so se sta arrivando qui perchè non è la loro non è interessata loro questa zona qua ci sono i cani stanno la vabbè stanno l'altro boss proprio in me che vuoi fare pushare quelli o farci questo mmm il sangue o i soldi i soldi vai tanto comunque poi ci becchiamo qualcuno e viene qua qua c'è una scelta ok bene andiamo allora aggiungo un dettaglio si questo boss è come d'altronde come il ragno con un due attacchi ivi di seguito ti attacca subito si triggerà subito l'attacco best ok a meno che non li vai alle spalle ok il ragno devi proprio fuggire per prolungare per fare più danno ed evitare il berserk si fa ivi light ivi e scappi per farlo prima diciamo però essendo che siamo in due sarà un macello ma proviamoci ivi ah ho capito ok ivi ho capito ok ora vado io con la stessa formula ivi no te pareva allora no no ridatemela accetta ah mi ne avevo per me vabbè lo lupo allora voglio la mia accetta che è qui tipo allora ivi ma sempre a me prende io ma ci muoio ma scusa spai mi ricarico un po' di ma l'ho uccido ma l'ho uccido scappa scappa è fatto è fatto è fatto è fatto è fatto uno due tre ok ottimo a posto il ragno era proprio di bianco ok c'ho una concertina io ne ho quattro in realtà no sono le allarme terrestre vieni con me ah è vero vieni andiamo al piazza dei barili ti copro vai ok allora chiudi il cancello la ci dovrebbero essere i barili laggiù stanno i corvi vamo corri corri però non fai niente di qua non fai niente di qua qua c'è un barile ok ok poi qua c'è un altro qua c'è un altro si sto cercando uno qua c'è un ah ok qua c'è un altro giallo eh ci sono due gialli volendo senti uno la metto qua fast fatto fatto me ne sono conservata una ma mettila qua mettila qua qua c'è un'altra ci sono due giallo no ok a posto perfetto perfetto non l'avevo nemmeno vista figurati ho detto attento ai barili andiamo andiamo una mettila un ingresso ok non a questo non a questo poi lo sappiamo dopo lo vengo a cercare io questo dobbiamo pure stare attenti che già non ci sono prendo la trappola sai che fai quindi insomma si mettono a sparare da qua mettigliela qua così appena scatta sappiamo che dobbiamo sparare qua o sai che dobbiamo sparare qua un po' angolo muro o di lato qua insomma come vengono qua per affacciarsi tu li wallbangi senza nemmeno vedermi ok e qua dalle scale scendono vero? è falliscente andando da qua scendono altri ingresso no questo è ingestibile qua ok entra entra questo è ingestibile ho sentito qualcosa che è esploso sopra che non è un tuo barile tra l'altro che non ci è andato qualche verme del meter comunque tu cercati questa e io vado a cercare l'altra ok se si mette male ci ricongiungiamo arrivano arrivano e sta pure da solo il tipo sta venendo da solo il tipo si? è un bait ok secondo me si è portato l'amico e se è da solo è un pazzo scatenato vieni vieni prendi la taglia è una moglie incontro il ragazzo sta la taglia ok lo vedo no non è lui è un'altra gente stai con te brown si vieni 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 no era lui che vedevo è molto lontano in quella direzione sta flancando parecchio ce ne sono due qui giamma ce ne sono due qui qua vicini proprio no no rientriamo rientriamo la taglia è andata ormai quello è un solo qualcuno gliel'ha inculata e ci sono due tipi qua abbiamo due tipi giusto sopra la taglia è crematorio però quell'altra è stata raccolta da qualcun altro che adesso non si muove e abbiamo due tipi qui sopra di fatti tu qua no vado all'altra come vuoi Grazie. Ok, uno se l'è preso, ottimo. Sorpresa riuscita, Jamma. E abbiamo bruciato una barra. Adesso è come un shot, uno. Ok. Se era rosso, moriva direttamente. Surprise, motherfucker! Your friend takes the yellow barrel, right? Your friend takes the yellow barrel. Ma ti stanno rispondendo? Sì. Che ti dicono? Now is one shot. Do you want a team up? What? Team up A, ok. Forse dice come. Like who? For example, we can fight the other bounty. And you can take it. Four people versus two. Ah, it's on the extraction, ok. Now you want this bounty, right? Eh, I don't know. We have money. We have money if you want. Ok. Stanno tutti e due qua sopra. Da te? I have idea, guys. Guys, I have idea. Allora. So. Fight, western fight. One on one. Okay. Yes, yes. No, 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 no. I'm fair. I'm not Augie. I'm not Augie. Don't worry. Do you know Augie? Do you know Augie, youtuber? Okay. Fair fight. If we win, we can go out. If you win, you can take the bounty. But you have to kill me. Okay, you can recoil the bounty on the ground. Maybe we can do two fights. Some footsteps and you shoot at the two guys western fights. Come on, come on, my friend. Vieni qua, vieni. Vieni, vieni. I go out with medikit. Okay, fair. Okay. Seriously, guys, eh? All right. I have medikit. Nice. We have to do two fights because we have... We take the bounty. Who's the first in your team, man? He's killed here in a minute. Okay. He has the sword. Don't scare me, Case. Let's do it normally, Prince. Okay. Alla western. Okay. And I fight with this. Hi, man. Hello. Medikit, please. Are you ready? Okay, how are we going to do this? How do you say? 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 On the back. On the back. On the back. On the back. We can walk in opposite way. And when your friend shoot, we have to shoot. Okay? Oh, okay. So like a duo. Yeah, it's a western duo. Okay? Okay. Okay. I will pick locks. But we have the dogs in this direction. Okay, let's kill the dogs. Kill the dogs first. Okay, let's kill the dogs first. What is your name? Krug. Okay, you shoot and we start the fight. But we have to walk for first. Okay? Okay. 10 steps. Okay, guys? 10 steps. No, no, no. Random. Random is more good. Okay. Okay, you shoot. You use a label. Okay. It's good. You have an Agansilenced. It's worse than 10 my packs. Okay, it's good. Packs and label. No problem. Okay, back on back, my friend. Let me reload for first. And then... Come si dice il regolamento? The rules. The rule is no healing. Okay? Yeah, so we walk against from each other. And when my friend shoots, we turn around and we kill each other. Yes. Yes. Swinging, no healing and shooting. Okay, whenever... You can use every weapon you choose. So you just want to stand on place. Stand and shoot on place. Yes, yes, it's okay. Okay. Like a swing. We can do the swing, I think, no? Like this. Yeah. Yeah. Okay. Let's go, my friend. Okay, whenever you are ready, girl with the white shirt, shoot in the air and we can start. Let's go walk, my friend. Let's go walk, my friend. Let's go walk, my friend. I killed. Okay, you can take the bounty guys and GG. No, no, it's your turn. It's your turn. Oh, okay, it's my turn. Okay, let me... Let me... Okay, take the bounty and let me revive Brown. Okay, let me revive him. But you're already recording, Grandma. Yes, yes. Okay, now it's my turn. Oh, no. That was very, very fun. All right, I'll go with the Vetterly. Now it's your turn, Prizio. Yeah, go here because that big boy is on the way. Okay. Just go here. Okay, 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 let's move, okay. Brown, but we can stop us. We'll have to steal all the tiles. Okay, I can't believe you. No, come on, come on. It's fun. Okay, now it's our turn. Let's go walk, my friend. Back on back, guys. Do you want to shoot or should I shoot? I shoot, I shoot. I'm dying and I shoot. Oh! Oh my God! Porca puttana. Let's team up now, guys. Yeah, 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 we have to do it. We have to do it. Mannaggia, Prizio. Mannaggia, proprio a me doveva far succedere sta cosa, ma c'è le due debbie slack, bravo. Che c'è la stava sparare? Sì. Brano ha voluto fare il duello a questo team. E mo' è arrivato un altro team che ci sta uccidendo. Vabbè, siete in quattro, dai. Sì, a me mi hanno preso subito, ovviamente. Era il turno del mio duello. Io stavo là fermo con l'altro amico Prizio. Vabbè, falli giocato. Vabbè, sono stati gentili questi, però. Ok, ok. È sulla cosa, bravo, non mori pure tu, sennò... Bravo, mi puoi riviviscere, forse, sai? L'ho ucciso. Ti vengo a rivivere. I'm gonna arrest my friend. I'm gonna arrest my friend. C'è un altro? Sì. Hanno visto che eravamo in quattro, capito? Sei in piedi, sei in piedi? Sono in piedi, sono in piedi, non c'è un cazzo di vita. Cura di io, se vuoi questi. I'm near you, I'm near you. Ma dove sta l'altro, bovown? Attento, non uccide l'amico. Ok, lo vedo. Where is the guy? Ok. Sono morto, mi ha sventolato. Ottimo, l'ho ucciso con la Terringer. GG. GG. L'ho ucciso con la Terringer. Is il tuo arrivo? No, è morto. Non è morto. Ok. Uuuuuh. Wow. Ok, quindi. E' stato buono. Sì, è buono. Ma ora stai registrando, diciamo? Sì sì Prizzo, sei pronto a uccidere? No no, Brown Non si fanno queste cose Non si fanno queste cose Non si fanno All right, let's go for the duel, ragazzi Ah, you die one time Yeah, I'm gonna die probably No, I'm not gonna die probably I have two bars You die one time? Just one time, I have two bars and a half I think in this day We get a more precious thing The friendship You know? All right, let's go with that duel Hoping no one will come again All right, back on back Let's go Let's go Ok I shoot, guys, with Romero Can we walk? Can we go? Yes, you can go Ok, ok This one has the pistolet There's a silenzial You have a Vetterly Let's try Oh, let's go GG, 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 GG GG GG, GG Oh shit Non mi ammazziamo male e ora spariamo qualcuno vabbè Brann abbiamo anche chiappato due versione normali si si esatto hai incontrato due versione normali sono in showdown si ma ce n'è parecchie si si no però a volte incontro i cussi che non parlano guarda la finestra che aveva aperta qua questo eccolo qua è caduto come un vaile di merda ho la sua marmotta di merda in testa il car mi teneva per piniello qua comunque meno male che abbiamo fatto il map perchè questi ci inculavano male ma non erano malaccio che c'ermi c'aveva per piniello una pax e un dead die caldwell pax o romero qua caldwell cazzo caldwell rival and cannon caldwell pax caldwell pax caldwell pax ah questo ce la sto vetterli cecchino ok ho capito tutto va bene addio signor marmottone anche detto marmotti 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 po il ritorno se ne è andato ma quella perché non ha la taglia perciò non l'hai letto ok tutto a posto allora si festeggia l'amicizia ehi guys sorry hey where are you? shut up and die and suck it the sicilian cannon pure c'hai ragione brand sicilian cannon chi devi sparare? a me devi sparare che è? non lo so oddio c'è un tizio là braun vieni qua vieni qua braun muoio eh prossimo colpo sul morto le curate perchè non c'ho i medipack braun dimmelo prima questo non so stato io braun si si vabbè c'è il potere? risponde hai il potere? ok non c'è nessuno che cazzo era il dico in ritardo? era il tuo dico era un bullet del dico che è stato malfabbricato da qualche bambino ho capito i bambini del baiuto i bambini del baiuto pagate i bambini del baiuto ahia io scattavo mi sparo sui piedi per andare più veloce con romero se lo fai lo sai che salti un po' più in alto ma di poco? si guarda no in serio in serio allora com'era? braun ma ci muori come prima eh ci fanno un altro headshot come prima e volevi fare la cosa in stile che cosa atroce noi stiamo andando a un'uscita in tutto questo vero braun? ma quanto è bella la mafia dopo che non ci troviamo dovevamo dire sta cosa mafia si si mafia pizza e mandorino no pezzo di merda take it take this mandolino take this mandolino take this mandolino in the ass beccata al furo e no e no 3 di spaghetti dovevamo dire ma chi l'ha accesa quella rata? vabbè sempre presto no ho finito i colpi di zombo ok oh ma arriva su uscita non arriva comunque ci hanno ammazzato male ci hanno lasciato pure la taglia per troppo che abbiamo fatto pena comunque fate schifo e questo è colpa tua che non mi hai ascoltato no ho chiaramente ammazzato no ho chiaramente ammazzato brown è vera brown è vera che sto succedendo ragazzi ma è mezza la miseria ti va a vedere nel minuto e c'avevi di coi mi fa coccidarti che non sei forca puttana ti ho detto portatevi di coi ti ho detto portatevi di coi ti ho detto portatevi di coi si si spara mi pure ma mi raccomando poi succede come western però mi dite di schierare anche un pochino di brown non da prizio però a me la prizio è il mio messia mannaggia a te brown mannaggia te l'ho detto era vera di una mija aspetta devo rispondere a western è vero prizio è il tuo messia ma tu sei il mio messiere niente mamma mia mamma madonna gg è un beppe aiuto allora aspettate un attimo ok si kippa tutto hai potuto giù non